Rimane accesa la discussione, soprattutto politica, sul nuovo Pug, il piano urbanistico generale presentato dall'amministrazione lo scorso sabato. Ma in tutto questo i cittadini sanno che cos'è? No, il Pug non so cos'è. No. Tu sai cos'è il Pug? No. No. Il Pug? No. No, non l'ho sentita. Onestamente no. No. Il Pug no, per nulla. No, io mi interesso d'altro. No, 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 no. Eppure sono informata, seguo le iniziative che fanno qui al Comune, le seguo. Però il Pug no, non l'avevo sentita, no. Se le chiedo che cos'è il Pug, lei sa cos'è il Pug? Piano urbanistico generale. È motivo di discussione della politica locale, questo sì. Il Pug è quello che è il piano regolatore della città. Piano urbanistico generale. Che cosa ne pensa? No comment. Dopo 30 anni che stiamo aspettando questo piano regolatore, speriamo che sia la volta buona. Se da un lato il Pug a molti non è noto, dall'altro anche chi sa di che cosa si tratta, spesso poi non ne conosce i dettagli. La certezza invece è che i cittadini hanno ben chiaro quali interventi vorrebbero per migliorare la città. E mi dovrei documentare un pochino di più su quello che hanno presentato adesso. So che a guardarsi in giro servirebbe un pochino sistemare la situazione. Speriamo che quello che hanno predisposto sia all'altezza delle necessità. Guardi, forse rifacimento del manto stradale. Un piano traffico migliore, per esempio. Il trasporto e la viabilità. A livello di città andrebbero fatti diverse cose. Prima che le viene in mente? Le strade. Qualcosa che magari possa intrattenere i giovani, quello sicuramente. C'è ancora molto da fare, però come ha detto lei qualcosa per i giovani. Qualche cosa anche per gli anziani, magari anche di trasporto. Che aiutassero in Lecce a fare il campo nuovo, perché i soldi ce l'hanno. Ecco, quello servirebbe a Lecce, lo stadio nuovo.